Ore 8 o meglio 20 del 6 ottobre. I roghi sono stati spostati alla notte. Alla notte c'è tutto fumo sulla terra dei fuochi. Lì è vesibile a occhio nudo e anche qua. C'è una scia qua, che praticamente inizia da Guariano, presto a poco, quasi Giuliano. Sì, Giuliano è praticamente arriva fino al centro di Giuliano e oltre. Sono le ore 20 del 6 ottobre 2010, terra dei fuochi. Grazie.